Percorso netto dopo 11 giornate, Città di Cerignola resta imbattuta nel campionato di Serie C silver pugliese, anche Forti Tudotrani cade sul proprio campo sotto i colpi della capolista, vittoriosa con il punteggio di 73-55. A ruota però c'è sempre Virtus Molfetta che infligge all'altra tranese New JT un perentorio 113-60 con ben 6 uomini in doppia cifra capeggiati da Morker Yunas con 17 punti. Il miglior realizzatore è però sull'altro fronte Galantino con 27. Il terzetto di testa si completa in fila indiana con nuova Matteotti Corato che regola Cusbari per 99-83 grazie ad un incontenibile Simonis da 37 punti, Cuomo ne infilia invece 29 fra gli ospiti. Dai 18 punti di Corato si passa ai 14 di la scuola di basket Lecce e Dinamo Brindisi che rispettano il pronostico favorevole contro Anspi, Santarita, Taranto e Api Monopoli. I brindisini vincono in trasferta per 86-59 aggrappandosi ai 33 punti realizzati da Dimitrov in una partita condotta praticamente sin dall'inizio. Quota 100 raggiunta da Lecce, tanti quanti i punti realizzati contro Taranto che si ferma invece a 77. Segura ne fa 40 e per gli Ionic non bastano Cassano, James e Bojkovic che insieme ne fanno quasi 60. Nella pancia della graduatoria, sesto posto per Adria Bari, settimo per New Virtus Messagne che prosegue la sua ascesa contro Diamond. L'82-56 finale vale il distacco di Foggiani che cedono nonostante i 23 punti di Rosso per la squadra di coach Brai, Gualano ne conta 17, trionfo 16. Fattore campo rispettato pure a Bari dove nuova cesistica barretta cade per 82-75 in una partita che i padroni di casa ribaltano dopo l'intervallo nonostante il recupero ospite dell'ultimo parziale, miglior cannoniere Loprieno con 27 punti. L'anno solare agonistico per le squadre di Serie C-Silver si concluderà nel prossimo fine settimana con Cerignola-Lecce, Cusbari-Molfetta e Anspi-Santarita-Taranto-Nuo a Matteo Ticorato. Per quanto riguarda le prime tre, Barletta ospiterà Messagne, Forti-Judo Trani invece riceverà Adria Bari. New JT farà visita alla Dinamo-Brindisi, completa il programma Diamond-Foggia con troppi monopoli.